Sì, adesso invece passiamo alla RAI Pubblica Utilità con Alessandra Canale. Buongiorno a te, quali sono le notizie, Alessandra? Buongiorno Giuseffine, sì, le notizie, diciamo, abbiamo una viabilità pressoché normale, come tutte le mattine, in fase di vivacizzazione per i consueti spostamenti pendolari del mattino, con l'inizio delle attività lavorative e scolastiche, ne danno esempio, le immagini che monitoriamo prese a campione sulla 1 all'altezza di Calinzano, come vedete flussivi e i colari vivaci in entrambe le carreggiate. Invece alla diramazione di Roma Sud abbiamo già le code che dalla 1, la Roma-Napoli, si dirigono verso il grande raccordo anulare per poi accedere al centro della capitale. Ad ogni modo, questa mattina, le consuete code per operazioni doganali sulla 9, la Enate-Chiasso tra Como e Chiasso in direzione del territorio elvetico. Abbiamo dei rallentamenti tra Asti-Est e la strada statale 110 Padana-Inferiore e a Roma un incidente verificato si avvia dalla Pisana in prossimità del grande raccordo anulare. Poi abbiamo anche dei rallentamenti per trasporto eccezionale sulla 14 tra Ortona e Lanciano. E' sempre sulla 14. Fate molta attenzione questa mattina perché sta piovendo tra il biglio della 1 e Imola e poi attenzione anche alla nebbia presente sulla 1, la Roma-Napoli, tra Roma e Ceprano, con visibilità ridotta. Quindi in questo caso, occasione utile per ricordarvi di ridurre la velocità da 130 km orari a 50 km, qualora il quadro visivo, come in questo caso, è inferiore ai 100 metri. Per quanto riguarda il meteo, c'è un'inistabilità su tutto il nostro paese con fenomeni di forte intensità, in modo particolare al centro e al nord. Queste le notizie di maggior rilievo, raccomandiamo prudenza. A te, Giusefina, una buona giornata e ai nostri telespettatori l'appuntamento a più tardi. Arrivederci. Buona giornata anche a te, Alessandra. Adesso invece voltiamo pagina, parliamo di calcio.